Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video andremo a paragonare iOS 6 contro iOS 9. Sono due appunto sistemi operativi di Apple e lo sappiamo benissimo e hanno molto in comune ma anche molte cose diverse. Andiamo a paragonarli in questo video. Ed eccoci qua, abbiamo iPod Touch di quarta generazione che rappresenta la versione 6 di iOS mentre questo rappresenta la versione 9, il mio iPhone 4S, precisamente 6.1.6 e 9.3.5 ovviamente sono aggiornati al massimo livello. Partiamo dalle schermate principali, appunto la schermata di blocco e possiamo vedere che già qui spuntano delle differenze. Ad esempio qui abbiamo un design che si ispira appunto alla versione originale dell'iOS, infatti è stato mantenuto questo slide pronunciato già a partire da iOS 1.0 con l'iPhone 2G 11 anni fa. siamo mantenuti appunto fino all'ultima versione di iOS 6 e da iOS 7 è comparso questo che praticamente lo slide è nascosto da questa linea continua che scorre. Per sbloccare i due dispositivi praticamente basta aprire, basta far scorrere lo slide e questo è un po' classico per tutti. Ritorno un attimo nella schermata home per farvi vedere, cioè la schermata di blocco scusatemi, per farvi vedere l'accesso alla videocamera che qui è nascosto ma ovviamente si può fare pienamente, eccolo qua, questo è l'accesso alla videocamera, ovviamente uscendo si entra nella schermata home se non si ha un codice. La schermata home, qui ci sono alcune differenze, le principali sono le icone che sono cambiate, appunto vediamo ad esempio l'icona delle impostazioni, cerco di mettere a fuoco, ecco qua, questa è l'icona di iOS 6.1.6 mentre questa è quella di 9.3.5, eccola qui, bella messa a fuoco. E come vedete appunto sono differenti tra loro, infatti la stessa cosa a partire da iOS 7 è tutto cambiato, principalmente i maggiori cambiamenti sono avvenuti appunto dalla 6 alla 7. L'icona della fotocamera possiamo vedere che è diversa, anche questa, quella a sinistra è stata adottata a partire dal primo iPhone appunto, dalla versione 1.0 di iOS, mentre questa a partire già da iOS 7 è stata appunto cambiata. Vi faccio vedere un attimo appunto il centro di controllo di iOS 6 che non sembra ma è presente, magari alcuni di voi lo sanno, basta semplicemente entrare nella zona per chiudere o aprire le applicazioni, semplicemente per chiuderle o ritornare alle varie applicazioni e scorrere verso sinistra, ed ecco qua, un piccolo centro di controllo possiamo dire di iOS 6.1.6, possiamo provare a tirare verso l'alto ma ovviamente non c'è altro, se si scorre ancora verso sinistra troviamo il volume e poi basta, anche scorrendo a destra non c'è niente. Mentre sappiamo bene che a partire da iOS 7 è stato adottato un centro di controllo come questo, è un po' variato appunto tra la 8 e la 9, però potete vedere che comunque questo è il centro di controllo di entrambe le versioni. Passiamo al centro notifiche, vediamo che è leggermente aggiornato su iOS 9, mentre su iOS 6.1.6 diciamo che è un po' più basico, insomma è il classico centro di controllo delle prime versioni di iOS e appunto potete vedere che sono un po' diversi ma grosso modo svolgono le stesse funzioni, abbiamo la possibilità, ok qui non ce l'abbiamo mentre qui abbiamo la possibilità di scorrere nelle varie notifiche eccetera eccetera. Ecco qui, torniamo nella schermata home, ci sono altre differenze come ad esempio la funzione di ricerca si attiva con uno swipe verso sinistra per iOS 6, mentre per uno swipe verso il basso per iOS 9. La tastiera è anche quella diversa, arrivo tra un attimo, voglio solo farvi vedere che basta anche qui cliccare sul tasto home e si arriva sulla funzione di ricerca. Appunto vi dicevo la tastiera è cambiata, possiamo vedere che le lettere qui sono bloccate su maiuscolo anche se io metto i caratteri minuscoli, questo per garantire una maggiore lettura, una lettura appunto migliore dei caratteri, però ovviamente questa cosa col tempo ha iniziato a dare fastidio perché la gente si confondeva ed è stata adottata questa tastiera che appunto è stata cambiata, è stata messa a scura per appunto garantire una migliore lettura dei caratteri. Anche presenta ovviamente la funzione di ricerca vocale in entrambi i dispositivi, ovviamente c'è Siri nel 4S che non è presente nell'iPod. Sono andato nelle impostazioni perché qui ci sono delle differenze, ad esempio lo stile come vedete è cambiato e una differenza sostanziale è quella che appunto ad esempio entrando nelle impostazioni, adesso vado su generali in entrambi i dispositivi, abbiamo qui notifiche e qui generali, eccolo qua, che appunto per tornare indietro basta uno swipe su iOS 9 mentre qui bisogna premere appunto il comando per andare indietro. Anche questa cosa dello swipe a sinistra per tornare indietro è stata adottata a partire da iOS 7. Potete vedere lo sfondo di iOS 9 sull'iPod perché ce l'ho semplicemente ho scattato una foto in uno sfondo che avevo, lo sfondo dell'iPhone e l'ho adattato alla schermata dell'iPod, questo per renderlo un po' più moderno. Come vedete anche sull'iPhone ho scelto uno sfondo simile a quello di iOS 11 così per rendere appunto più moderne le cose. Un'altra differenza si trova nella videocamera, infatti nell'applicazione, qui abbiamo le classiche due opzioni adottate a partire dall'iPhone 3G S, ovviamente non vi confondete con il 3G perché solo 3GS e dal 3GS in poi si poteva fare i video. Abbiamo appunto questi due comandi a parte i comandi del flash che sono qua sopra e in realtà il flash non c'era ancora quindi questo si adatta benissimo alla prima versione di iOS che poteva effettuare i video. Qui abbiamo appunto molte più opzioni, basta uno swipe a sinistra a destra per entrarvi, qui abbiamo la funzione timelapse, le foto ovviamente, le foto in formato 1.1.1, mentre qui abbiamo la panoramica classica. Qui abbiamo la funzione per appunto entrare nelle varie funzioni, abbiamo addirittura il contador, insomma moltissime cose che non c'erano nella versione di 6.1.6. Peccato che non sia stato possibile che il supporto sia cessato a 6.1.6 e non sia andato avanti magari a 7.0 perché magari avremmo avuto un iPod diciamo con una datura migliore. Magari lento un po' come il 4S però la versione più moderna appunto avrebbe supportato molte più cose. Grosso modo le differenze si fermano qui, ancora una volta vi faccio notare il centro di controllo perché molti, alcuni tendono a dire che su iOS non è presente, su iOS 6 ovviamente, una cosa che vi faccio vedere è appunto la chiusura delle applicazioni, basta uno swipe verso l'alto da iOS 9, mentre qui bisogna semplicemente tenere premuta un'applicazione e poi chiuderle. È ovvio che se avete tante applicazioni aperte è possibile scorrere in entrambi i sensi per andare a vedere le varie applicazioni. Ho alzerato il volume per sbaglio, non volevo farlo comunque. La stessa cosa vale per iOS 9, se avete varie applicazioni potete scorrere. A questo punto direi che le differenze grossomodo si fermano qui, vi faccio vedere un'ultima cosa, ad esempio l'App Store che è diverso, vediamo qui uno stile un po' più primitivo ovviamente, mentre qui è più avanzato, molto simile anche a iOS 11. Bene, ormai le differenze sono finite, l'ultima cosa che vi dico è che iOS 6.1.6 ovviamente supporta meno applicazioni rispetto a iOS 9.3.5, questo perché ovviamente Apple tende ad annullare il supporto per le applicazioni un po' troppo presto, secondo me diciamo, se fate caso ad Android ad esempio, Whatsapp è ancora supportabile alla versione 4.0 se non sbaglio, anche prima di Android, quindi pensate un po', purtroppo qui invece è un po' diversa la cosa, mi dispiace ammetterlo, ma è diversa. Ok, ma con questo il video si conclude, se c'è qualcos'altro che volete sapere, magari volete un video più dettagliato, fatemelo sapere, nei commenti ovviamente sarò felice di soddisfarvi. Da NYXGEL66 è tutto e ci sentiamo presto con un altro video. Ciao a tutti!